Il rilancio del campionato che mezza Italia attendeva si è verificato oggi. Il Torino ha battuto per 3-2 la Juventus in uno dei derby più avvincenti che siano stati disputati. E se da una parte il risultato premia l'ardore e il puntiglio con cui Granata si sono battuti, non si può d'altro canto ignorare che la Juventus avrebbe meritato il pareggio, non fosse altro che per i due pali colpiti e per alcune grosse occasioni da gol fallite di un niente. Inoltre è anche giusto accennare alla bravura del portiere Castellini in alcune circostanze e alle inspiegabili lacune difensive accusate dai bianconeri sul finire del match. La cronaca è il ventesimo del primo tempo. Graziani entra in aree e si porta verso il fondo quando Spinosi lo contrasta in scivolata. Graziani va a terra e l'arbitro fischia il penalty. Pulici spiazza Zoff e segna. Ventisettesimo. Su centro dosato di Causio, Damiani tira di testa, Castellini ribatte e Santin allontana. trentaquattresimo. Bettega lascia per Anastasi che si trascina avanti la palla e c'entra di precisione. Bettega è puntualissimo e infila al volo. Juventus subito all'offensiva nella ripresa. Azione stretta fra Capello e Bettega che c'entra. Testa di Damiani e stupenda parata di Castellini. Subito dopo, su spiovente di Anastasi, ancora Damiani colpisce di testa e c'entra il palo. Tre minuti dopo, bella azione di Anastasi che si libera bene per il tiro ma conclude al lato. Ventunesimo. Di scena il Torino con Graziani che serve Zaccarelli, il cui tiro va alto. Capovolgimento di fronte, su corner di Causio, Damiani, ancora di testa colpisce giusto. Castellini con l'aiuto del palo respinge e Capello che sopraggiunge spara in pieno sul portiere. Ventiseiesimo, pasticciaccio difensivo bianconero, su spiovente di Agroppi, Morini ribatte malamente. Scirea libera peggio alzando il rinvio e Gentile sta a guardare. Non così Pulici che aggira un avversario e fa secco Zoff da 15 metri. Torino 2, Juventus 1. La Juve non molla e al trentasettesimo riacciuffe i rivali, centro di Gentile per Bettega che serve Anastasi. Tocco per Capello che controlla la perfezione e batte Castellini con tiro angolato. Due a due. Quarantaduesimo, scende Sala e centra per Graziani che tira, Zoff devia contro il montante. La palla rimbalza verso Agroppi sul quale chiude Furino ma sul rimpallo arriva Zaccarelli che infila da otto metri. Torino 3, Juventus 2.